Il breve periodo di prova è andato bene. Da oggi Teddy O'Carefor è un giocatore del Pistoia Basket. La società biancorossa ha infatti provveduto a tesserare il cestista inglese, che quindi sarà a disposizione del tecnico esposito già da domenica prossima nella gara contro Torino. Playmaker di 24 anni nato a Londra, O'Carefor si è formato cestisticamente negli Stati Uniti, avendo disputato il campionato NCAA con i colori della Virginia Commonwealth University prima e della Ryder University poi. Nella sua stagione da senior ha messo a referto 12,1 punto e 4,5 rimbalzi di media partita, guadagnandosi la convocazione con la nazionale britannica, con la quale ha staccato il pass per il campionato europeo del 2017. Il giocatore Red uscede una breve esperienza in Estonia. A inizio novembre aveva infatti firmato un contratto a gettone con il KK Parnu, squadra militante nel massimo campionato di quel paese e nella Baltic League.